Buonasera, tra pochi minuti c'è il TG1, vi racconteremo il terzo giorno di guerra in Ucraina. Da tre ore, dalle 5 del pomeriggio c'è il coprifuoco a Kiev, chiunque verrà trovato sulle strade sarà considerato un nemico. Da Mosca arriva l'ordine inoltre offensiva a tutto campo. Centomila persone sono in fuga dal paese, molti al confine con la Polonia. Il Papa scrive un tweet in russo e ucraino, no alla follia della guerra. E poi c'è il richiamo di Mattarella, fra stati serve rispetto e collaborazione. Tra pochissimo il TG1. Ho sbagliato il numero! Accetto! Accetta centomila! Amadeus, insieme a Giovanna e tanti ospiti speciali, vi aspetta Affari Tuoi, formato famiglia. Questa sera alle 20.35 su Rai 1. Scopri la rete dei record, premiata da OpenSignal e prima nella classifica Altru Consumo, per fare tutto quello che vuoi insieme a noi. Dal cuore dell'Equador, il miglior cacao che Novi sa come trasformare in un cioccolato di qualità superiore. E oggi in ben 15 specialità. E tu? Quale scegli? Novi, il grande cioccolato italiano. Difendiamo la vostra spesa quotidiana dai rincari. Più di 200 prodotti Coop, a prezzi protetti. Prosciutto cotto alta qualità Coop da 150 grammi a 1,50 euro. La Coop sei tu. Ok, tu scegli il detersivo. Ma io l'ammorbidente. E con le Nord Perle prolungo la durata del profumo che amo. Esatto, è come i tempi supplementari. L'esperto del bucato, senza metafora calcissima, non ce la fa. Le Nord Amorbidente parla insieme. Un matrimonio perfetto. I feel good, Le Nord. Kinder Cereali è come lo vedi. Gusto autentico dei cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, buono come lo vedi. E' il momento di tornare in laboratorio. La nuova collezione ci aspetta. E per farle spazio, in Poltrone Sofà, Cello svuota tutto, con sconti fino al 70% sugli ultimi divani e poltrone. Vi aspettiamo in negozio. Sarete miei ospiti. Poltrone Sofà, autentica qualità. La nuova stagione di Pechino Express è in partenza su Sky. Farete tappa in Turchia, Uzbekistan, Giordania, Emirati Arabi. Sempre che ci arriviate, il viaggio è dotato di ogni genere di sconfort. Non ci scusiamo per il disagio, anzi, ringraziandovi per averci scelto, vi auguriamo un'avventura meravigliosa. Pechino Express è su Sky. Guarda, prova SkyQ a 9 euro senza vincoli. Chiamaci, 02-8080. Quando scegli questo marchio, puoi stare tranquillo, perché dietro a Selex c'è un nuovo eroe. Spesa di pesa entra nei migliori supermercati per proteggere il tuo potere d'acquisto. La scelta giusta è quella che facciamo insieme. E ora vi proteggo io. È vero, l'iniziativa spesa-difesa protegge i prodotti a marchio Selex dai rincari. Nei migliori supermercati è online. Selex non racconta storie. Azzi, ma che roba è? Sempre il braccio corto, eh? Ma che ti importa? Tanto uno vale l'andro? Ma che è il vero affare, Dash Power? Rimuovi le macchie anche a freddo. Così risparmi fino al 60% di elettricità. Ma mappelo, che pulito. E bollette ridotte. Che power! In Italia quasi tutti hanno un conto corrente. Ma oggi c'è chi ha controcorrente. Controcorrente non è un conto come gli altri. Chi ce l'ha può scontare il canone fino a zero, risparmia e ha i mezzi di pagamento più evoluti. Ma il bello è che ti ripaga della scelta. Come? Con gli interessi garantiti. E tu da che parte stai? Passa a controcorrente, conviene! Apri lo su controcorrente.it o in IBL Banca. Ah, è gratis per i primi sei mesi! Prima che le ossa mi diano problemi, io penso alla loro salute. E Uliveto è l'acqua amica delle mie ossa. Bevuta giorno dopo giorno, Uliveto fornisce un equilibrato apporto di calcio. Giusto? Più che giusto! E se lo dice lui? Uliveto partecipa all'integrazione del fabbisogno giornaliero di calcio per la salute delle ossa. Visto? Uliveto non è solo buonissima tavola. È una preziosa amica del benessere delle ossa. Perché Uliveto è Uliveto. E se lo dice lui? Uliveto, una fonte di calcio per la salute delle ossa. Uliveto, una fonte di calcio per la salute delle ossa. Uliveto, una fonte di calcio per la salute delle ossa. E' il momento di tornare in laboratorio. La nuova collezione ci aspetta. E per farle spazio, in Poltrone Sofà, cielo svuota tutto, con sconti fino al 70% sugli ultimi divani e poltrone. Vi aspettiamo in negozio! Sarete miei ospiti. Poltrone Sofà. Autentica qualità. Da oggi, il gusto di Ferrero Rosé ha una forma nuova. Granella di nozzole, un morbido ripiano cremoso, racchiusi in una tavoletta di delizioso cioccolato. Tavolette Ferrero Rosé, la nuova forma del piacere. Lo sapevi che quando tiri lo sciacquone i cattivi odori si depositano sulle superfici? Poi vengono rilasciati nell'aria e li senti anche dopo. Ecco perché arriva il nuovo Ambipur bagno. Premi il bottone e ci pensa lui. A differenza dei gel, Ambipur elimina continuamente i cattivi odori fino a 45 giorni. Ambipur, respira felice. Difendiamo la vostra spesa quotidiana dai rincari. Più di 200 prodotti Coop a prezzi protetti. Olio extravergine di oliva 100% italiano origine Coop a 4,50 euro. La Coop sei tu. Nel tempo la tua sicurezza sul lavoro è stata spesso inadeguata. Ora, Seer Safety System vuole illuminare il tuo futuro rendendoti più sicuro con una linea di dispositivi ad alta efficacia che proteggeranno il tuo corpo. Per un mondo migliore, per il tuo bisogno di protezioni, qualsiasi lavoro tu faccia, affidati a noi. Seer Safety System, your protector. Prima che le ossa mi diano problemi, io penso alla loro salute e Uliveto è l'acqua amica delle mie ossa. Bevuta giorno dopo giorno, Uliveto fornisce un equilibrato apporto di calcio. Giusto? Più che giusto. E se lo dice lui? Uliveto partecipa all'integrazione del fabbisogno giornaliero di calcio per la salute delle ossa. Visto? Uliveto non è solo buonissima tavola. È una preziosa amica del benessere delle ossa. Perché Uliveto è Uliveto. E se lo dice lui? Uliveto. Uliveto. Una fonte di calcio per la salute delle ossa. Sono orgoglioso di te. Siamo tutti orgogliosi di te. Bravo. Con una laurea in lettere sarà più difficile aiutarti ad entrare in fabbrica. Ma questa è la tua vita, non la mia. Io voglio fare musica. Allora diventiamo maestra. E se non ce la faccio? in prima visione. Anna! Come ti chiami? Si rimetterà in fretta Franco. Grazie. Ci voglio bene papà. Una storia che tocca il cuore. Bentornato papà. Mercoledì alle 21.25. Rai 1. Perché la gente si ostiene ancora a fare figli? Pupà! È un bel maschetto! Si può sapere come fai a trasformare le nostre vite sempre in un'avventura. In un'ibreria l'ho cercato il libretto di istruzioni per fare il papà, ma mica l'ho trovato. Quell'uomo è abbandonato davanti a una caserma. È un'aria dolce. Tu sei una donna meravigliosa. Ti detesto quando sei così dolce. Siamo tolto il pensiero. Lui. Da domenica 6 marzo 21.25. Rai 1. L'esercito di Mosca invade l'Ucraina. Segui in tempo reale la cronaca, i commenti, gli approfondimenti e i collegamenti in diretta dai luoghi del conflitto. Scopri tutta l'informazione Rai in un solo portale. Vai su rainews.it o scarica l'app gratuita. Questo programma è presentato da Mobile Tury Evoluzione Cucina Ci sono cose così speciali che non puoi tenere solo per te. Nutella Biscuits Il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Una grande emozione nata per essere condivisa. Nutella Biscuits Un cuore grande. Yakult contiene 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. E l'intestino è il nostro secondo cervello. Anche oggi missione compiuta. Yakult piccola bottiglia da grande missione. Il raffreddore ti tiene sveglio. Prova Vicks Vaporub agisce sul naso chiuso e tosse. I suoi vapori balsamici con eucalipto e mentolo liberano le vie respiratorie. Vicks Vaporub Buonanotte Raffreddore Per iniziare la giornata c'è sempre la bontà naturale di Crema 9. Pochi ingredienti ma tante nocciole italiane che donano una perfetta spalmabilità per una crema nocciola e cacao cremosa e profumata. Crema 9 Bontà naturale da sempre. I mal di testa non sono tutti uguali. Per il solito mal di testa puoi provare Moment 200 e quando è forte Moment Act. Se il tuo mal di testa è da cervicale Moment All. Quando compare insieme al ciclo Moment Act Analgesico. contro il mal di testa da congestione nasale puoi provare Moment X in. Ad ogni mal di testa una risposta mirata da Angelini. E ovunque sei quando serve puoi provare Moment in formulazione liquida pronto e facile da mandare giù. Per vincere il mal di testa rapidamente. Moment e Moment Act in formulazione liquida da Angelini Secondo lei cosa spinge un uomo a infrangere la legge piuttosto che rispettarla? Le circostanze. L'hai lasciato in strada? Sì. Non appena si saprà chi stava sull'auto che ha investito un silvono faranno a pezzi. Dietro ad ogni azione c'è sempre una ragione da scoprire. Questa è la casa dove si è ammazzata a sua madre non lasciare solo anche lui. È difficile essere padre così come è difficile essere giusto. Ma non devi dire a nessuno la verità. Perché non possiamo stare insieme? Non è facile da spiegare. Ma non sono certo le cose facili a renderci migliori. Stefano Accorsi in vostro onore da lunedì alle 21 a 25 Rai 1 Sappiamo cosa significa Fante e sappiamo anche che è stato lei a far sparire questo documento dalla cartera di Lazzarini. Perché gliel'hai dato? Davvero quello che ti hanno dato in cambio vale così tanto. Anche più di Giulia. Ascolta io lo so che non è facile da capire ma fidati di me. È un po' tardi per chiedermi di fidarmi di te. Sono venuto solo per parlarvi. Non mi aspetto che mi perdoniate ma vi dovevo la verità. Avevi ragione tu. I segreti che ci portiamo dentro ti uccitano. In prima visione la commissione ha deciso di non darle tre avviso. Sarà premario per un giorno. Forse Andrea ha perso. La doc vince sempre. Doc nelle tue mani seconda stagione giovedì 21 a 25 Rai 1 Mamma! Goditi i tuoi momenti sul WC grazie a Vicinet Candigina Con la sua esclusiva formula garantisce il 100% di igiene e un'azione sbiancante immediata. Vicinet Candigina Più è pulito più lo vivi. Come quella volta che volevamo sistemare la moto di mio padre perché basta domeniche in casa e abbiamo trovato Ronny che con i suoi pezzi di ricambio originali praticamente ci ha salvato la moto e le domeniche. Su Ebay oltre a Ronny ci sono migliaia di venditori esperti e appassionati. Ecco perché trovi sempre tutto quello che ti serve per la tua moto e la tua auto. Cosa aspetti? Ebay un'altra storia. Prova Via Cal nuova formula per tutto il bagno il calcare si accumula su ogni superficie del mio bagno ma il nuovo Via Cal lo dissolve lasciando solo brillantezza sulla porta della doccia sulle piastrelle e i sanitari ora con un nuovo delizioso profumo Via Cal il numero uno contro il calcare per tutto il bagno raccomandato da Ideal Standard Si potrebbe andare da MD a fare la spesa Ma perché? Perché da MD c'è l'1 più 1 gratis su tanti prodotti buonissimi come il salame Milano a 1,99 euro paghi 1 gusti 2 MD buona spesa Italia ogni donna sa quando ha trovato quello giusto Gold Collagen Forte è quello giusto un integratore liquido specificamente formulato per i segni avanzati dell'invecchiamento lasciati sorprendere da Gold Collagen chiedilo al tuo farmacista al mattino ognuno ha i suoi tempi meno male che prima o poi arriva quel qualcosa in più di Kinder Colazione Più 5 cereali miscelati con cura e la bontà del cacao e del malto un gusto unico per ritrovare lo slancio a colazione Kinder Colazione Più al mattino chi ci dà di più Dramma ricrescita per fortuna c'è ritocco perfetto di L'Oreal Paris 3, 2, 1 ricrescita sparita il numero 1 in Italia ah ma hai notato che passo più tempo in cucina? e ci credo è una cucina mobile tour con il suo look deciso rappresenta in pieno la bellezza del made in Italy guarda questa colonna con apertura elettrica è comoda e capiente ha una chiusura dolce e silenziosa eh sì ha tante idee originali come le vetrine illuminate e lo schienale attrezzato per avere tutti gli accessori a portata di mano elegante ma anche funzionale grazie all'isola con il piano a induzione e la vasca integrata i materiali poi sono eccellenti il top è resistente al calore e all'acqua ed è facile da pulire e con il forno uver puoi scegliere tra la cottura tradizionale e la cottura a vapore per preparare piatti sani e gustosi come i professionisti della cucina capito perché ci passo tanto tempo mi sento un vero chef col mobile tour puoi avere cucine belle e di qualità al miglior prezzo di sempre cerchi il rivenditore più vicino su mobiltour.it mobile tour evoluzione cucina Ehi Fran ma nella carbonara ci va la panna? Certo metteci pure un po' di cacao se vuoi Passa a Berry Mobile 220 giga minuti e sms illimitati a soli 9 euro e 99 al mese Dopo la magnitè però con 5 euro di ricarica omaggio Polenta Molino di Ferro Molino di Ferro bontà autentica Passeggeri per binario naso chiuso Vixinexaloe libera il tuo naso chiuso rapidamente fino a 12 ore Binario 12 per il treno diretto a Milano Vixinexaloe Kinder Cereali è come lo vedi Gusto autentico dei cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder Kinder Cereali buono come lo vedi nuova Honda HR-V full hybrid vieni a scoprirlo il 26 e 27 febbraio ma quanti sono? qui conta il silenzio il silenzio e il tempo e se non capite questo non potete capire il parmigiano reggiano adesso chiudete gli occhi e pensate a tutto quello che si può fare in 36 mesi tanta roba eh mai grazie questo è te e questo ma che stai a fare? Marco stavo ancora pensando cosa farei voi vedi già finito? ciao forse c'è qualcosa che non va nella volontà degli uomini di istruirci metti per iscritto questa cosa che hai detto ho finito ieri sera molto forte Elena ma tu alla fine l'hai letto? eh no ma io non lo leggi proprio che cosa vuoi sapere? che cosa c'è tra te Nino? che brava moglie che brava mammina a che servite immaginarmi che avresti visto una vita bellissima tanto per me l'amica geniale storia di chi fugge e di chi resta l'imperdibile ultima puntata domani alle 21 e 25 Rai 1 con Nunzia De Cirolamo ciao maschio tra poco su Rai 1 allora Watson sono o non sono il numero 1 Holmes ho indagato è immobiliare.it il numero 1 in Italia ha più annunci è più utilizzato scarichi l'app immobiliare Watson immobiliare.it grazie Immo il bello delle opinioni è che possono essere cambiate prova la nuova rete Wind3 scegli la tua offerta il primo mese è gratis e senza vincoli Wind3 molto più vicini il gusto fresco di Tic Tac si rivela con gentilezza strato dopo strato Tic Tac rinfresca la tua giornata con gentilezza lo sapevi che col tempo il tuo naso si abitua ai cattivi odori? eh sì il tuo olfatto diventa a suo fatto ma gli altri sentiranno questo e questo e questo arriva il nuovo diffusore elettrico Ambipur Trivolution con sistema di programmazione intelligente elimina gli odori ed è l'unico profumatore per ambienti che alterna automaticamente tre fragranze complementari e ti avvisa quando lo devi ricaricare addio olfatto a suo fatto e benvenuti 90 giorni di freschezza Ambipur respira felice e tu ci si infundo un'esperienza da capogiro un trionfo di sfoglie e no che accoppiata ragazzi non potete capire ancora questa mano strati su strati di sfoglia fragrante Cracker Pavesi il gusto unico in mille mila modi i dolori muscolari possono colpire diverse parti del corpo Termaker li combatte senza medicinali e in modo mirato il suo calore terapeutico penetra in profondità rilassando i muscoli tesi con una fascia anatomica studiata per il mal di collo così torni a muoverti più facilmente da Angelini secondo lei cosa spinge un uomo a infrangere la legge piuttosto che rispettarla le circostanze l'hai lasciato in strada sì non appena si saprà che stava sull'auto che ha investito un sir lo faranno a pezzi dietro ad ogni azione c'è sempre una ragione da scoprire questa è la casa dove si è ammazzata sua madre non lasciare solo anche lui è difficile essere padre così come è difficile essere giusto ma non devi dire a nessuno la verità perché non possiamo stare insieme non è facile da spiegare ma non sono certo le cose facili a renderci migliori Stefano accorsi in vostro onore dal lunedì alle 21 a 25 Rai 1 sono orgoglioso di te siamo tutti orgogliosi di te bravo con una laurea in lettere sarà più difficile aiutarti a entrare in fabbrica papà questa è la tua vita non la mia io voglio fare musica allora diventiamo maestre e se non ce la faccio in prima visione Anna si rimetterà in fretta Franco grazie ci voglio bere papà una storia che tocca il cuore bentornato papà mercoledì alle 21 e 25 Rai 1 il cantante mascherato venerdì alle 21 e 25 su Rai 1 questo programma è stato presentato da Mobile Turi evoluzione cucina cosa state facendo? non penserete di andare a dormire noi siamo qui a Ciamaschio e fra poco torniamo con tre maschi di successo Rock Quant Giorgio Gori e Arturo Brachetti a fra pochissimo domenica 27 febbraio è passata da poco la mezzanotte i nostri aggiornamenti buonasera dal TG1 suonano di nuovo le sirene d'allerta Kiev sotto assedio dell'esercito russo gli scontri si intensificano in periferia nel giorno in cui un razzo ha colpito un palazzo residenziale facendo tre vittime coprifuoco in vigore nella capitale i cittadini sono stati invitati dalle autorità ad entrare nei bunker la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen proporrà nuove sanzioni contro l'economia russa a partire dall'esclusione di un certo numero di banche dal sistema di pagamento internazionale SWIFT faremo in modo che Putin non utilizzi più fondi per finanziare la sua macchina della guerra spiegato von der Leyen paralizzeremo le transazioni della banca centrale russa e impediremo agli oligarchi di usare i loro asset finanziari sui nostri mercati intensificheremo l'attacco da ogni direzione lo ha annunciato oggi il Cremilino il presidente Zelensky da Kiev invita la popolazione alla resistenza sul fronte diplomatico poco fa colloquio telefonico tra Zelensky e il premier britannico Johnson obiettivo condiviso isolare la Russia la Francia fornirà altri equipaggiamenti militari annuncia in serata all'Eliseo mentre Berlino chiude il suo spazio aereo ai voli russi prevista videoconferenza di Draghi con i leader europei ed il presidente americano Biden per discutere delle sanzioni alla Russia l'Italia appoggia la linea dell'Unione sulle sanzioni a Mosca ed è pronta a fornire assistenza all'Ucraina per difendersi lo ha ribadito il premier Draghi in un colloquio telefonico con Zelensky nuovo appello al dialogo dal presidente della Repubblica Mattarella va affermato dice il capo dello Stato il rispetto e la collaborazione tra gli stati nuovo appello per la pace da Papa Francesco che ha sentito il presidente ucraino Bergoglio ha espresso il suo più profondo dolore per i tragici eventi che stanno accadendo nel paese ieri il pontefice lo ricordiamo si era recato dall'ambasciatore russo presso il Vaticano per discutere della necessità di prendersi cura delle vittime del conflitto bene ci fermiamo qui il Tg1 torna domani mattina grazie per essere stati con noi arrivederci grazie per essere stati con noi grazie per essere stati con noi quando in casa è tutto in ordine sei pronto a qualunque cosa succeda fuori apri la porta a una vita più organizzata dal primo gennaio 2022 parte l'assegno unico e universale è un assegno unico e stabile che sostituisce e semplifica molte delle agevolazioni per i figli a carico è universale perché tutti ne hanno diritto con un importo base mensile per ogni figlio che va da 50 a 175 euro dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni chiedi la certificazione ISEE e fai la domanda per riceverlo ogni mese da marzo scopri come su famiglia.governo.it chiedi l'assegno per i tuoi figli e attiva il nostro futuro verde macchiato de rosso rosso macchiato de verde se me vedesse mi cugina a mano se tu li devi lavare a mano o i colori svaliscono con le macchie stai bonina con dashpods via le macchie fibre e colori protetti anche a freddo l'è da incorniciare è più che pulito è pod tenere fuori dalla portata dei bambini secondo lei cosa spinge un uomo a infrangere la legge piuttosto che rispettarla? le circostanze l'hai lasciato in strada? si non appena si saprà chi stava sull'auto che ha investito un silo lo faranno a pezzi dietro ad ogni azione c'è sempre una ragione da scoprire questa è la casa dove si è ammazzata sua madre non lasciare solo anche lui è difficile essere padre così come è difficile essere giusto ma non devi dire a nessuno la verità perché non possiamo stare insieme? non è facile da spiegare ma non sono certo le cose facili a renderci migliori Stefano Accorsi in vostro onore da lunedì alle 21.25 Rai 1 a Bea piace contare le gocce di cioccolato sul suo pangocciolo prima di mangiarlo la merenda preparata solo con ingredienti tutti naturali pangoccioli mulino bianco il tuo ottico OIA Center sa come prendersi cura della tua visione con le nuove lenti progressive OIA così confortevoli che non ti accorgerai nemmeno di indossarle gli occhiali provale nei centri ottici OIA Center vieni a vedere il coraggio è il superamento che non ti accorgerai